La Campania continua ad essere fra le regioni più popolose d'Italia quella meglio messa sul fronte del contagio e questo nonostante la densità abitativa più alta del paese. Resta quindi saldamente in zona bianca a meno di al momento inaspettati picchi del contagio. Il primo dato che conferma questo scenario è dato dai ricoveri di incidenza. Secondo l'Agenas al 4 dicembre in Italia la media dei ricoveri in terapia intensive nei reparti ordinari era rispettivamente all'8 e al 9%. Molte regioni italiane, Calabria, Lazio, Liguria, Veneto, Marche e Valle d'Aosta hanno superato uno dei due livelli critici che porterebbero dal bianco al giallo. Livelli che ricordiamo sono dei 10 di occupazione per le terapie intensive e 15 per cento per le degenze. Livelli superati entrambi al momento solo dalla provincia autonoma di Bolzano e dal Friuli Venezia Giulia. La campagna invece con un'occupazione al 4 per cento delle terapie intensive e del 9 delle degenze resta lontanissima dal primo livello d'allerta. Bassa ospedalizzazione che si potrebbe giustificare con il fatto che la regione ha una popolazione giovane rispetto alla media nazionale ma non solo. Infatti se si considera l'altro parametro che indica il livello di rischio, l'incidenza, si nota anche che la campagna con 115,76 casi ogni 100.000 abitanti non solo rimane stabile rispetto alla settimana precedente ma conferma di essere tra le grandi regioni italiane quella col millor numero di contagi rispetto alla popolazione residente. Entrando nello specifico questo è il quadro della pandemia fatto con i numeri dati dal ministero della salute. Nell'ultima settimana in campagna da sabato 26 novembre a sabato 4 dicembre nuovi casi registrati sono stati complessivamente 7.774 di questi 1.197 in provincia di Salerno il 15,4 per cento del totale. Sono 322 ricoverati con sintomi e 22 quelli in terapia intensiva. A questi da aggiungere 18.200 persone che sono curate a casa, la maggior parte pauco o totalmente asintomatici, per un totale di 18.544 attualmente positivi. Per dare un'idea la metà di quelli della Lombardia e del Veneto dove se ne contano 37.000 e molti di meno di Emilia Romagna 28.000 e Lazio 23.000 regioni fra l'altro con una popolazione residente inferiore alla Campania.